Un tema su cui senz'altro si è dibattuto e si dibatte in questi giorni, mesi, è quello della risarcibilità dei cosiddetti danni punitivi, una suggestione che discende dagli ordinamenti stranieri, in particolare dagli ordinamenti di Comolò e che in qualche modo è stata attualizzata nel nostro ordinamento in forza della recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite numero 16601 del 2017. In particolare quello che può interessare è l'applicazione dei principi senza altro di portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite nei vari ambiti del diritto e prima ancora della vita e della convivenza sociale. Tra i tanti, tra le innumerevoli applicazioni che può avere il principio di diritto della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, principio per cui sono effettivamente risarcibili anche nel nostro ordinamento i cosiddetti danni punitivi, è quello del diritto di famiglia, del diritto delle relazioni familiari. Che incidenza può avere, che portata, quanto dirompente è la portata che può avere la pronuncia delle Sezioni Unite sulle dinamiche familiari, interpersonali, interne alla comunità familiare. Anzitutto cosa ha detto la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione? Ma ha ripreso un orientamento che già nel 2016 il Supremo Concesso aveva fatto proprio in relazione al risarcimento del danno da violazione del diritto euro unitario, ponendosi in chiave però rivoluzionaria rispetto al previgente orientamento di cui alle pronunce del 2007 e del 2011 sulla stessa materia. Il danno, la responsabilità civile, non è soltanto una responsabilità volta a ristorare il soggetto leso, a ripristinare la situazione di attinenza del soggetto leso, il patrimonio del soggetto leso, nella più ampia accezione che di patrimonio si può avere, riportandolo allo status quo ante rispetto all'evento dannoso, rispetto all'illescito. Questa angusta, come viene definita, funzione unica della responsabilità civile, c'è quella di ristorare il patrimonio del soggetto leso, di riportare la situazione del soggetto leso al momento antecedente rispetto al fatto causativo del danno, viene superata in forza di una visione polifunzionale della responsabilità civile. La responsabilità civile non è soltanto tesa a ristorare ma è anche tesa a sanzionare e oltre a sanzionare a svolgere una funzione di deterrenza, quindi atta a prevenire illeciti dello stesso tipo in un'ottica futura. Ecco quindi che la responsabilità civile si atteggia alla luce della pronuncia delle sezioni unite alla stregua di una sorta di prisma a più facce, di una figura poliedrica, almeno triplice quindi sarebbe la funzione della responsabilità civile. E questa rinnovata funzione discenderebbe sia dai singoli disposti che prevedono ipotesi di condanne punitive e la Cassazione a sezioni unite va appunto a denumerare in modo puntuale tutte le ipotesi in cui fattispecie di questo tipo effettivamente vi sono, dalla legge sulla stampa sino alla legge in materia di diritto d'autore sino evidentemente alle fattispecie rilevanti in sede processuale. Si pensi all'articolo 96 del codice di procedura civile, si pensi per quanto attiene al codice del processo amministrativo, il decreto legislativo 104 del 2010 all'articolo 26 del medesimo, si pensi all'articolo 709 ter del codice di procedura civile sulla cosiddetta misura coercitiva o esecuzione indiretta in materia familiare. Queste ed altre le fattispecie cui fa riferimento la Suprema Corte e a questi disposti di legge ordinaria si affiancano evidentemente e anzi vengono prima i principi costituzionali, in particolare la necessaria, la dovuta tutela ai diritti inviolabili che viene garantita dalla carta fondamentale in particolare. Il riferimento è all'articolo 2 della Costituzione in una allo stesso articolo 3 sul principio di eguaglianza nella sua duplice declinazione formale e sostanziale. Ecco che alla luce di questo sistema è effettivamente non contrastante con l'ordinamento interno un'ipotesi punitiva come quella che viene posta all'attenzione della Suprema Corte, la questione era quella della deliberazione di una pronuncia straniera che appunto prevedeva una condanna si fatta. Non vi è dunque contrarietà all'ordine pubblico ma anzi vi è compatibilità con i disposti e con i principi del nostro ordinamento. Ma la Cassazione fa però un caveat, si va bene tutto questo ma purché quegli stessi principi valevoli nella materia penale o nella materia sanzionatoria in senso lato siano pienamente operativi e si fa riferimento evidentemente in primis al principio di tipicità e di tassatività nella nostra materia in una al principio di proporzionalità. Evidentemente l'accento viene posto sugli articoli 23 della Costituzione e 25,2 della Costituzione. L'illecito civile si colora di elementi sanzionatori, si avvicina dunque a caratteri connotati e funzioni dell'illecito penale e quindi deve essere assoggettato agli stessi principi che vanno a regolare e che vanno a porre argini alla materia della responsabilità penale. E quindi in tal modo si vanno a conciliare le esigenze di solidarietà nei confronti del danneggiato con le esigenze e con il principio di tolleranza nei confronti del danneggiante. Principi che sempre devono ispirare la giurisprudenza in primis in sede applicativa di queste misure. Ma quale la portata, quali riflussi nei tanti settori possibili del diritto? Ma tantissimi, si potrebbe evidentemente spaziare. Gli ambiti sono i più vari, chiaramente, dalla materia contrattuale alla materia del diritto d'autore. Ma ecco, una delle materie sicuramente più incise indirettamente, direi anche direttamente, dalla portata di questa pronuncia è quella del diritto di famiglia o di diritto delle relazioni familiari, come più piace dire a molti degli studiosi di questo tema oggi, alla luce delle mutevolezze del cangiante sviluppo e progresso che ha interessato questo settore così magmatico del diritto. E tanti commentatori si sono interessati del tema. Quali i riflussi, quali le conseguenze sulla materia familiare? Anzitutto bisogna capire, e a questo si è dato nel tempo risposta, per lo più risposta affermativa, se la materia familiare sia o meno, per così dire, compatibile con i temi risarcitori, con i temi, con i profili dell'illecito civile. Se si parte evidentemente da una nozione di famiglia, quale in senso stretto, isola, lambita, solo lambita dal diritto, come diceva un grandissimo studioso di questi temi, corollario poteva essere quello della impermeabilità della comunità familiare rispetto alla materia dell'illecito civile. La famiglia va preservata, la famiglia nella sua unità coesione, nelle sue caratteristiche intimistiche deve essere salvaguardata, alla luce di questo devono essere individuati rimedi specifici che specificamente si attaglino alla materia familiare e che non vadano appunto a rompere né comunque ad incidere sulle dinamiche interne, sull'auto regolarsi e regolamentarsi della famiglia. La famiglia quindi come comunità nella quale si sviluppa massivamente l'individuo, la famiglia come società intermedia tra Stato e cittadino, la famiglia come nucleo che lo Stato non crea, non costituisce, non istituisce ma semplicemente riconosce. Il riferimento chiaro è all'articolo 2 della Costituzione che parla appunto di riconoscere in relazione ai diritti aventi predicato di inviolabilità e all'articolo 29 della Costituzione che nello specifico regola la famiglia definendola per l'appunto società naturale. Non a caso, anche qui è implicito il concetto del riconoscere e non quello dell'istituire, non quello del creare dall'alto ciò che nasce e si sviluppa dal basso delle relazioni umane intersoggettive. E quindi si potrebbe discutere, si potrebbe dire gli unici rimedi compatibili sono quelli specificamente previsti dall'ordinamento, ecco l'addebito nella materia della separazione personale, ecco gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli articoli 342 bis e 342 terra del codice civile, ecco gli specifici illesiti di diritto penale speciale che vanno a preservare i principi costitutivi della famiglia, si pensi all'articolo 570 del codice penale. L'illecito civile non è compatibile, l'illecito civile sta al di fuori dell'universo familiare che ha le sue proprie regole che non si possono mai sovrapporre con quelle che sono le dinamiche interne alla comunità stessa della famiglia. Ma questa concessione è stata superata, si è riconosciuto, lo ha fatto la dottrina, lo ha fatto la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, si pensi tra le ultime pronunce alla numero 3810 del 2015 della Suprema Corte, la compatibilità dell'illecito civile con la materia familiare. Si dice oggi che si deve parlare non soltanto di doveri morali in relazione a quelli di cui è l'articolo 143 del codice civile, così come a quelli di cui è l'articolo 147 dello stesso codice civile, si deve parlare di veri e propri obblighi giuridici e giuridicamente coercibili, giuridicamente rilevanti. E non solo, ma oltre a doversi parlare di doveri in questa accezione, l'illecito endofamiliare cosiddetto è una figura del tutto compatibile con la famiglia che anzi è volta a preservare, ad attuare, a garantire quei principi costituzionali di quegli articoli 2 e 29 e 30 della Carta Costituzionale. Le visioni sono le più ampie, c'è chi parla ancora in dottrina di responsabilità contrattuale, c'è chi parla non a torto di obblighi di protezione. Quali che siano i colori di questa responsabilità un dato è certo, quello per cui evidentemente di responsabilità e di illecito endofamiliare si debba, anzi si possa parlare. Unitamente a questo si unisce che cosa? Si unisce una concezione di danno non patrimoniale ormai ampliata, ormai estesa, ben al di là dei limiti e delle maglie imposte dalla versione letterale dell'articolo che regola appunto il danno non patrimoniale, l'articolo 2059 del Codice Civile. Oggi non si può risarcire il danno non patrimoniale soltanto nei casi previsti dalla legge. Ci sono sì i casi previsti dalla legge, c'è sì l'articolo 185 del Codice Penale, ma ci sono anche i diritti costituzionalmente rilevanti che abbiano un predicato di particolare rilevanza, che abbiano un carattere di inviolabilità. E questo lo ha detto da ultimo l'importante pronuncia della Cassazione a sezioni unite 26972 del 2008. Bene, il danno non patrimoniale è esteso, al di là dei limiti tassativamente e testualmente previsti, in un'ottica costituzionalmente orientata, non più il 2043 ma appunto lo stesso 2059 come chiave di volta del sistema, in un'ottica costituzionalmente orientata, esiste l'illecito endofamiliare, è compatibile con la famiglia, quindi si possono aprire nuove porte, nuovi ambiti, appunto anche ai cosiddetti danni punitivi nella materia familiare. E senz'altro questo è possibile, l'uso è senz'altro ammissibile, l'importante è che non se ne faccia un abuso, l'importante è che la bussola rimanga quella imposta dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite e di cui parlavamo poc'anzi, il rispetto del principio di legalità, del principio di tipicità, del principio di tassatività, del principio di sufficiente determinatezza, del principio di proporzionalità. Se questi principi non vengono rispettati il rischio è che si abusi di uno strumento che pur può essere potenzialmente virtuoso a tutela di quei diritti inviolabili del nucleo familiare. Lo strumento c'è, dello strumento si può fare uso, ma perché non se ne faccia abuso è importante usare prudenza e cautela, è importante che non diventi uno strumento preda del soggettivismo giudiziario e quindi causa di imprevedibilità di pronunce e di orientamenti. È importante quindi che il bandolo della matassa venga riconosciuto, individuato, nei casi espressamente previsti dalla legge in cui è possibile fare uso dello strumento del danno punitivo in materia familiare. Qual è quindi la norma da impiegare? Qual è la norma che può permettere di soddisfare il principio di tipicità e di tassatività? Ma lo stesso articolo 2059, il codice civile rinvia ad ipotesi previste dalla legge come fa ad assolvere al principio di riserva di legge una norma che essa stessa rinvia ad altri risposti normativi. Probabilmente la risposta non si può quindi rinvenire nell'articolo 2059 va ricercata altrove. Senz'altro alcuni punti, alcuni puntelli si potrebbero rinvenire nell'articolo 709 ter del codice di procedura civile di cui abbiamo detto poc'anzi. Uno strumento senz'altro importante, uno strumento volto principalmente a tutelare i soggetti in particolare deboli all'interno del nucleo familiare in tutte le ipotesi di crisi della famiglia. Quindi ai fini della piena e completa attuazione dei principi dell'affidamento condiviso e quindi di quel principio di bigenitorialità che in modo preeminente nell'interesse del minore ha ispirato questa importante riforma. Bene l'articolo 709 ter del codice di procedura civile. Ma l'articolo 609 ter del codice di procedura civile soddisfa appieno i principi di cui parla la pronuncia della Cassazione del 2017, qualche dubbio ancora a mio avviso deve sussistere. Anche solo a prima lettura dell'articolo 709 ter si comprende come non siano specificamente correlate le singole risposte sanzionatorie a contegni di questo o di quel tipo che siano stati posti in essere nell'ambito delle relazioni familiari. I quattro numeri dell'articolo 709 ter rappresentano sì risposte sanzionatorie, risposte punitive per certi aspetti soprattutto quella di qui al numero 4 ossia la sanzione, la penalità da combinarsi e versarsi alla Cassa delle Ammende ma il problema è quando l'una ipotesi e quando l'altra il numero 1 parla dell'ammonimento il numero 2 parla dello strumento del risarcimento del danno, il numero 3 anche del risarcimento del danno il numero 4 appunto lo abbiamo visto, il versamento della somma alla Cassa delle Ammende queste ipotesi sono addirittura accumulabili l'una con l'altra e quando si applica l'una e quando si applica l'altra e i principi processuali, la riserva di legge non è solo riserva di legge in materia di diritto sostanziale è anche riserva di legge in materia processuale, viene in mente l'articolo 111 della Carta Costituzionale in particolare il primo comma, il giusto processo è quello regolato dalla legge e allora dovrebbero esserci dei principi processuali che non si dovrebbero poter mai disconoscere il principio della domanda e della corrispondenza tra che esse pronunciato il principio della doverosità della motivazione, della doverosità della previa istruttoria del divieto delle cosiddette pronunce della terza via, il principio del contraddittorio non sempre l'articolo 709 ter è stato applicato con il rispetto di queste fondamentali condizioni garantiste si pensi a quando si è applicato il 709 ter dalla corrispondenza di merito anche in assenza di una previa domanda di parte o in assenza di una necessaria istruttoria sul punto ecco quindi i principi in materia di diritto sostanziale che si vanno a combinare con i principi in materia di diritto processuale e che vanno ad evitare, ad arginare il soggettivismo giudiziario perché lo strumento del danno punitivo è uno strumento utile ma bisogna utilizzarlo cum grano salis come fanno gli stessi ordinamenti dai quali questo istituto sembra essere stato trapiantato non è vero che in Inghilterra o negli Stati Uniti si faccia un uso smodato senza limiti non proporzionato del danno punitivo è vero esistono i punitive damages che si abbinano che si aggiungono ai compensatory damages questo è verissimo è verissimo anche che si colloca questo strumento in un sistema molto diverso rispetto al nostro e quindi vale il principio per cui trapiantare istituti al di fuori del loro contesto originario è sempre un'operazione rischiosa che va fatta con grandissima prudenza guardando anche alle condizioni che pongono gli ordinamenti di partenza all'applicazione degli istituti a parte l'impiego del cosiddetto precedente vincolante che rende evidentemente prevedibili le decisioni il precedente vincolante è una cosa seria salvo il distinguishing salvo le flessibilità imposte dall'equità ma è una cosa seria negli ordinamenti di common law ma oltre a questo c'è un diverso contesto c'è un contesto in cui evidentemente c'è la giuria popolare c'è un contesto in cui il danno punitivo copre anche le spese legali c'è un contesto diverso ma a parte questo c'è un contesto in cui sia la giurisprudenza sia gli stessi statutes, mi riferisco evidentemente all'ordinamento statunitense pongono una serie di condizioni di paletti importanti si pensa a quell'orientamento per cui il danno punitivo non può superare di una certa soglia la stima che si correla al danno cosiddetto compensativo al compensatory damage si vede spesso ricorrere questa formula dell'1 a 10 l'1 a 10 come limite della soglia al di là della quale non è possibile accordare il danno punitivo cioè non può essere superiore a 10 volte rispetto alla misura del danno cosiddetto compensativo in ogni caso in quegli ordinamenti il danno punitivo è sempre subordinato a ricorrere di una malice o quantomeno di una negligence della parte i danni punitivi non possono essere grossly excessive non possono essere eccessivi, sproporzionati rispetto alle situazioni che si devono tutelare e questo si trova anche nell'ordinamento inglese quella famosa decisione della House of Lords del 1964 che viene vista come l'inizio la pronuncia che in qualche modo è stata precursore di questo strumento il danno volto a punire, volto a sanzionare non si può applicare in tutti i casi si può applicare solo in casi di gravi abusi non in tutti i casi indistintamente tutte queste cautele vanno applicate non possiamo dire applichiamo il danno punitivo perché esiste in altri ordinamenti esiste ma con pesi e contrappesi quei pesi e contrappesi che possono realmente oggi permettere al principio di solidarietà nei confronti della vittima di convivere con quel principio di tolleranza che è anch'esso l'anima della società civile e questo è un po' l'auspicio ai fini della retta applicazione di questi innovativi principi vi ringrazio